La Lazio di Mister a vincola, batte a Trigoria la Roma grazie alla rete in apertura di Miceli. Andiamo a leggere le formazioni delle squadre che scendono in campo. Roma con Gregorizzi, Pellegrini, Valò, Castrati, Carni e Lutti, Antonucci, Petruccelli, Muzzi, Midos e Cappa. Risponde la Lazio con Rausa, Spiezio e De Angelis, Cocali, Costa Lunga, Certini, Collarieti, Miceli, Mancini, Romani e Spurio. Arbitra la partita del Signore di Cairano della sezione di Ariano Irpino. In panchina da Roma porta Fontebuoni, Spirito, Tinti, Foresi, Damario, Squersanti, Sabatini, Olivetti e Montella per la Lazio, Zaccheria, San Rocco, Guidotti, Castellani, De Cosmi, De Francesco, Lavagna, Svider, Coschi e Gambale. Al quinto arriva il gol del vantaggio bianco-celeste. Miceli si incarica della battuta del corner, Greco non è impeccabile e nel respingere si porta il pallone all'interno della propria porta. Per l'arbitro e l'assistente di linea non ci sono dubbi, il pallone è entrato ed avvarcato la linea e la Lazio può quindi esultare per il gol del momentaneo 1-0 che la porta in vantaggio a Tricoria. Vediamo il replay dell'azione del gol del vantaggio bianco-celeste, replay che tuttavia non chiarisce l'accaduto ma che di fatto assegna il vantaggio alla formazione di mister a vincola. La Roma reagisce al decimo, sgroppata di Antonucci sulla destra, palla a Muzzi che prolunga in rovesciata per Midos, conclusione a colpo sicuro del numero 10 romanista e miracolo di Rausa che devia. Al quattordicesimo ancora Roma, azione sulla sinistra di Midos e palla che arriva ad Antonucci ma il numero 7 giallorosso mette alto da buona posizione. La Roma cresce e al diciottesimo va nuovamente vicino al gol, Muzzi lasciato libero in aria colpisce di testa con la sfera che batte sulla parte alta della traversa. Al ventiquattresimo ancora Roma, azione nella percussione di Antonucci a destra e cross è basso per la corrente Muzzi che calcia di prima intenzione, la difesa bianco-celeste respinge e si salva. La Lazio si fa vedere al trentesimo sui sviluppi di un calcio piazzato e Certini a centroarea a non trovare il tempo giusto per battere a rete. Alla quattordicesimo del secondo tempo, la Roma rimane in dieci. Petruccelli, già ammonito, commette fallo su Colarieti. Per il direttore di gara e il signor di Cairano di Ariano Irpino non ci sono dubbi, secondo giallo ed espulsione per il numero 8 giallorosso. Alla ventiduesimo, grandissima occasione per la Lazio. Colarieti serve Miceli, tiro a botta sicura e miracolo di Greco che riscatta in parte l'errore del primo tempo. Ancora Lazio alla ventisettesimo, Colarieti serve Spurio che, però, calcia male da ottima posizione. La Roma si fa vedere al trentesimo con un gran tiro dalla distanza di Valò che non c'entra la porta. Al primo di recupero la Roma ci prova ancora. Cross al centro per Montella, colpo di testa centrale e parata sicura di Rausa. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio di chiusura del direttore di Gara. La Lazio espugna Trigoria con la rete in apertura di Miceli. Grande soddisfazione per il tecnico Avincola che ha già dato la sua impronta alla squadra. E per tutti i ragazzi scesi in campo che si prendono la soddisfazione di battere in casa propria i campioni d'Italia classe 99 della Roma.